Con nessuna impunità, nessuna immunità vogliamo rispondere per ciò di cui siamo competenti. Per questo ho lanciato un appello molto forte per migliaia di comuni che rischiano di andare in dissesto per un'assurda legge nazionale che impone l'accantonamento delle somme non pagate dai cittadini e i pitori di imposta. Detto con molta semplicità, il Comune di Paermo con migliaia di comuni italiani sono pronti a donare allo Stato i propri crediti pur di non essere costretti ad accantonare centinaia e centinaia di milioni che potrebbero essere spesi per servizi sociali.